Non so perché ma solo la musica di sto gioco mi fa sembrare che stia iniziando un drama spagnolo Hola ragazzi, ciao a tutti, benvenuti con questo nuovo video Siamo su The Witch House The Witch House non è altro che uno di quei giochi stile Eib, Madfather, fatti con RPG Maker Molto conosciuto nel suo genere Vi ripeto con la musica di sottofondo mi sembra di iniziare un drama spagnolo di qualche serie tv soppopera e robe varie Iniziamo il gioco in italiano, sono riuscito a trovare in italiano, va benissimo, perfetto perché è quello che ci serve Dato che non ci voglio di tradurre e non sono buono Partiamo dentro un bosco, perfetto, come come al solito le cose non si capiscono perché Quando ci sei finita nel bosco, perché sei finita, non si sa Siamo risvegliati dopo un coma etilico, probabilmente abbiamo fatto un party Vai a capire come ci siamo finiti qua, però vedo che ci si può muovere in diagonale, spettacolo Mai visto muoversi in diagonale? C'è un gatto Gatto nero, ciao Ci siamo svegliate, eh? Fatto after ieri sera, eh? Gli umani non dovrebbero stare qui, troppo pericoloso Vado giù, eh? Vado da qualche parte La via è bloccata da un cespuglio di rosa, incredibilmente grande Ok, non puoi... Uh, 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 ho già visto qualcosa Ho già visto qualcosa Hai trovato qualcosa di arrugginito e affilato Ok, ho trovato un macete Ah, però, un macete è già il primo inizio così? Ah, è un tutorial, ok, movimenti, nessuna domanda, non mi interessa Ho visto che però ci si... Uh, guarda che si può correre Spettacolo Allora a sto punto io direi che il macete è oggetti Il macete lo possiamo usare per tagliare le rose Non riesci nemmeno a scalfirle Non riesco a scalfire un mazzo di rose con un macete Come fanno i neretti... Ha sparito il gatto Farsi scherzi, gatto Hm? Ah, forse dobbiamo andare su di qua? L'avevo bloccato da un mucchietto di rose E immagino che queste si potranno togliere Perché queste si possono togliere, quegli altri no? Perché gli altri sono fatti di titani In realtà sono rose finte, quegli altri Il macete si è rotto pure Che di rose erano? Aspetta che ho visto però che c'è prima una lettera qua Dispiace che tu vada a casa sua Ma stai lontana dalla foresta Spero di rivederti a casa presto Papà Ok, stiamo andando a casa sua Sua di chi? Gatto nero Ah, che c'è? Oh, sei sparito così all'istante Ehm, così la via d'uscita è bloccata dalle rose Ah, era la via d'uscita quella Si è aperta la porta Hai intenzione di entrare? Lì, tanto vale se non puoi andartene Ah, ok, siamo proprio bloccati Cioè neanche a dire Un passo in mezzo agli altri No, una foresta talmente tanto fitta Che non si passa neanche di fianco agli altri Va bene Eccoci, siamo dentro la casa Ah, ma si può correre anche con quello Ah, va bene, allora Siamo dentro la casa di qualcuno Credo sia la casa della strega Dato che il gioco si chiama casa della strega In un qualche modo Che bel gioco Bellissimo Fatemi capire cosa è successo Eh, è crollato il muro qua Eh, si è schiantato tutto Oh, ma che cacchio è? Vieni nella mia stanza No, grazie Ok, hai capito? La pozza d'acqua D'acqua Sì, è la pozza di vino Ok, non devo calpettare la pozza di vino Va bene Ah, non mi venite a dire che questo è un gioco troll Perché mi arrabbio, eh Io mi arrabbio Vieni nella mia stanza Dove cacchio è la tua stanza? Ecco, posso Si è creato tutto Non siamo nella casa della strega Per niente Gatto nero Io ho deciso di seguirmi Per farmi due risate Che maledetto Ah, comunque Da dove cavolo si è spuntata fuori Ma me lo sto chiedendo anch'io E quello è il fatto Ho capito Allora, il gatto nero è un salvataggio Va bene Non so minimamente neanche io Da dove sono spuntata fuori Quello è il bello C'è un paio di forbici sul banco Dai messe forbici Via Sono incatenate al banco Ma perché? Cosa siamo? Gli elementari? Allora, la porta è bloccata Ah, bene Bene Penso che dovrò cliccare tutto come al solito Questi tanto sono i giochi RPG In cui devi cliccare tutti i tasti possibili del gioco Nel cesto c'è un grande orsacchiotto E' rimasto un po' di spazio Bene Sono contento Orsacchiotto nel cesto L'ho visto Mi prendi per stupido per caso? Mi prendi per cieco? Un grande orologio Il tempo scorre Per fortuna il tempo scorre Se no Ci si iniziava a preoccupare Un orsacchiotto giace Vicino ai regali Dammi il orsacchiotto Ah, ho capito Aspetta Si Un regale è caduto dalla pila Eh, è normale Perché là c'era Diario della strega Fammi leggere diario della strega Ero malata Quindi nessuno giocava con me Mio padre e mia madre Non mi volevano bene Fine della storia Questa mi sembra Una delle vostre cose C'era una volta La vacca e vittoria More la vacca Finisce Ah, è finita così davvero? Bello No, sono contento di leggere queste Queste trame vincenti Proprio Belle Solide Allora, in teoria Nel cesto c'è uno spazio Quindi noi ci va messo L'altro orsacchiotto I suoi arti non ce lo fanno entrare Ma è un orsacchiotto di peluche Cioè, comprimilo un attimo No Cosa vuol dire I suoi arti non ce lo fanno entrare Gli tagliamo To, ci sono le forbici qua Tagli gli arti To, guarda Tanti fatti Tagli gli arti Ma immaginavo si potesse fare Perché ho detto È stupido com'è sto coso Hai tagliato gli arti dell'orsacchiotto Hai ottenuto un torso Di orsacchiotto Bellissimo No No, aspetta, scusa C'è del sangue Quello orsacchiotto Mi sa che era vivo Salvo, eh Io ho paura Metti il torso del orsacchiotto Yee, che bello La scena non è per niente macabra adesso Allora, si è aperto un'altra porta Tarca vacca Madonna, santissima Oh E che cacchio E sti orsi adesso anche Che cacchio Mi son preso un colpo Mi son preso Maledetto, infame Ma sbaglio quell'orso si è mosso Ehi, hai la sensazione che non fosse lì prima Non si è No, infatti Si è mosso Madonna, si è mosso anche qua Ho visto qualcosa che si muoveva Oh Raga, stiamo calmissimi, eh Stiamo calmissimi Dai Stupido orso Maledetto Non mi avrai mai Mai Fammi salvare, gatto Voilà Che qua Qua succede di tutto Ho già capito io come va a finire Male Ci sono gli arti di orsacchiotto per terra Dammi anche sti arti Giro con degli arti Di sabato Che cacchio me ne frega Buongiorno, signori Vedo una grande tavolata qua Ma cosa succede di livello Chi mangia cosa Guardate dentro il cammino Cosa c'è dentro il cammino Non è niente di brutto Di perigo niente A parte i folici Ok, grazie Boh, ma aspetta Ho tipo un orsacchiotto gigante Che I topi Non posso spaventarmi Anche per dei topi Maledizione Il cuoco occupato Dagli una mano Posso dargli un'arto di No, schiacciate il topo Ma perché? Ma povera Vabbè, ti aiuto a disinfestare la zona Vabbè, c'è qualcuno di invisibile lì Ah, sono occupato Tanto occupato Ti do una mano se vuoi Oh, grazie La persona invisibile afferra il tuo braccio Spinge il tuo borsa sul tagliere Ecco, una mano è proprio ciò che mi serviva Io voglio incontrare una persona Che ti prenda così alla lettera Porca vacca Non se ne vedono Tutte quante continuano a dire Ah, mi daresti una mano? Certo E vogliono solo un aiuto? No Io le voglio dare la mano Perché non mi fai dare la mano? La mano ti devo dare io Ascolta, amico Io c'ho degli altri di orsacchiotto se vuoi Passa gli altri di orsacchiotto Oh, grazie Mi serve proprio una mano O due Lascia che ti mostri il mio apprezzamento Hai tenuto una chiave d'argento? Grazie Grazie mille davvero Un libro intitolato Cena degli aristocratici Le persone delle ricche classi dominanti Hanno sempre amato cenare con l'argenteria Usando posate così difficili da pulire Potevano assumere dei servi Per dimostrare la propria ricchezza In più gli utensili d'argento Cambiano colore a contatto col veleno E diventano abbastanza utili Utili per cosa? Per cosa? Cosa stai dicendo? È bloccata sta porta Dobbiamo una chiave d'argento Una chiave d'argento Ma Ok, sono tornato Dove ero lì? Cavolo, mi hai spaventato Non spuntare da nulla così Scusa Qua c'è Assaggia il veleno Sei scemo? Devo assaggiare il veleno davvero? Vuoi che muoro? Una strana zuppa in una ciotola La forma di teschio C'era scritto di fianco Assaggia il veleno Mi sembra veleno Bevila Vabbè, davvero? Sì Tanto a questo punto Eh, cosa succede? Quanto muoio? Viore è stata avvelenata Senti qualcosa Sbloccarsi da qualche parte Sono viva A quanto pare sono vi Va Allora, c'è qualcosa che non va Cioè, in un certo senso Devo berla Aspetta, aspetta Forse devo usare Devo bere, no? Dovrei berla, in teoria Chiave d'argento Colpisci la ciotola con la chiave Metti la chiave nella zuppa Perché cambia colore, vi ha detto Che cosa cambia colore? Poi non so Non ho capito La chiave La chiave è diventata nera Nella zuppa Senti qualcosa Sbloccarsi da qualche parte Ok No, non è caduto il pomodoro No Chi è che fa cadere i pomodori? Maledetti Quelli sono i scarafaggi Che camminano sui muri, eh Ve lo dico io Disinfestazione Vabbè, si muove roba Io non c'entro un cacchio Salve, arrivederci La porta si è aperta Grazie Possiamo andare Antì Cosa cacchio sta succedendo qua? Mi inizio a preoccupare Quando la gente mi viene incontro Però Finché stanno per i cacchi loro Va bene Ma se mi viene incontro, no In tua forma di gatto Fregata Ma no Che qua cosa bisogna fare? Un barile E dove sono finito? Oddio, cos'è? Ah no, c'è una ragnatela Con una farfalla dentro Va bene Per un colpo Una libreria impoverta piena di ragnatela Niente di importante qui Una farfalla è intrappolata Nella ragnatela Vieni farfallina Ti salvo io piccola Non avrei più da preoccuparti con me Non si apre Oh, santissimo No, ma voi siete scemi Ma proprio baccati nella testa Io ho salvato una farfalla Non ho mica fatto del male a nessuno Il ragno non vede molto bene Non riesce nemmeno a distinguere i colori Che è che se ci vede bene il ragno? Sì, sì Voglio dire a lui che non ci vede bene La teca di vetro contiene quella che sembra una testa umana La teca si è rotta Sono contentissimo C'è un modellino di farfalla quella del blu nella teca Ah, prendi No, la copertura nella teca non si muove Ok, niente Niente Corda in un barile Corda in un barile Bene, sono contento Un quadro di una donna con l'ombrello Una piccola libreria Manca un libro Eh, manca un libro Sono contento L'ha rubato All'altro Piatelo E niente Termino qua questo episodio Perché è venuto troppo lungo Speravo di fare una sola parte Me ne sono uscite due Purtroppo Mi è preso molto Non pensavo imprendesse Ma ha preso E quindi ho registrato troppo Quindi vi lascio qui Ci vediamo alla prossima parte Sempre su The Witch House Qui da Landolfo è tutto Ciao a tutti